salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi ci dedicheremo alla rubrica primi passi per il punto basso termico guardate questo è un pezzetto di lavorazione che ho fatto con questo punto e da una parte dall'altra risulta uguale non solo la differenza con la maglia bassa normale e la rigidità quindi questo punto ci permette di lavorare non solo poscette borse quindi già rigide ma anche fondi borsa che non abbiamo bisogno di rigidire ulteriormente perché il punto già è rigido di se stesso però potete comunque utilizzarlo per tantissimi altri progetti perché una maglia lavorata molto fitte si presta bene anche per presine comunque e altri altri progetti prima di presentarvi materiale e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tik tok e lì cercherò con delle storie dei posti di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere i prossimi progetti insieme se il video vi piace lasciate un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo primi passi utilizzeremo un cordino in questo caso verde un cordino su anne è un uncinetto numero 3 prendiamo l'uncinetto e il cordino e iniziamo con un cappietto che stringeremo e qui possiamo fare il numero di catenelle che vogliamo perché per questo tipo di lavorazione non c'è un multiplo quindi la potete fare della misura e quindi del numero di catenelle che volete o che vi occorre in base alla lavorazione che volete appunto fare io non le sto neanche contando sto facendo delle catenelle perché vi voglio far vedere questa lavorazione che sicuramente è ideale per determinati tipi di progetto fatte queste catenelle guardate entro nella prima catenelle e mi lavoro la maglia bassa quindi per ogni catenella che ho a disposizione lavoro una maglia bassa fino ad arrivare alla fine della lavorazione arrivati qui alla fine abbiamo lavorato una maglia bassa per ogni catenella che avevamo facciamo una catenella aggiuntiva che serve proprio per portare il lavoro dopodiché dobbiamo entrare nella prima a solina guardate nel primo punto qui nella parte sopra e qui nella parte sotto facciamo passare il filo e facciamo una maglia bassa poi prendiamo a solina da questa parte da questa che poi mettendo le vicino sono pure vicine e facciamo la seconda maglia bassa entriamo sopra e sotto e facciamo sempre la maglia bassa quindi dobbiamo prendere il punto in questo modo e ci verrà appunto la maglia bassa termica quindi ci lavoriamo a solina superiore guardate non vi potete sbagliare perché ve le ritrovate anche vicino mettendo la lavorazione così e infine alla fine lavoriamo sempre prendendo le due soline parte sopra e parte sotto e parte sotto e facendo una semplice maglia bassa parte sopra e parte sotto arrivati qui alla fine guardate abbiamo le due soline vicine quindi entriamo nell'una e nell'altra così e facciamo l'ultima maglia bassa quindi ce la lavoriamo una catenella voltiamo il lavoro guardate la lavorazione ora si presenta in questo modo come vedete c'è questa solina e questa qui rialzata dobbiamo prendere queste due quindi entriamo nel primo e nel primo e lavoriamo sempre la maglia bassa entriamo qui nella parte verso di noi e nella parte più esterna e prendiamo e facciamo sempre la maglia bassa entriamo in questa e in corrispondenza troviamo l'altra come vedete se il lavoro ecco si unisce un pochino di più ce l'avete proprio in corrispondenza le due soline e le continuate a lavorare e per tutti i giri ci ritroveremo con questo tipo di lavorazione ci ritroveremo le soline comunque una di fronte all'altra basta prenderle entrare e lavorare la maglia bassa guardate si sta cominciando a creare la nostra lavorazione arrivati qui alla fine guardate l'ultimo punto c'è questa è la la solina dall'altra parte proprio vicina perché già siamo arrivati comunque alla lavorazione e quindi si è unita facciamo l'ultimo punto basso una catenella voltiamo il lavoro e ci ritroviamo guardate sempre con la stessa lavorazione quindi noi non dobbiamo mai contare la catenella che facciamo per girare il lavoro dobbiamo entrare in quella precedente e in quella nella parte sotto e iniziare a fare sempre continuare la stessa lavorazione quindi a solina a solina a solina a solina giustamente questa è una lavorazione che poi è un punto basso si chiama termico ma è doppio quindi praticamente molto più rigido molto più resistente di un semplice punto basso lavorato quindi continuiamo la nostra lavorazione già si comincia a intravedere da una parte e dall'altra proprio la consistenza della lavorazione continuiamo così ne facciamo un pezzetto e così ci rendiamo conto anche di questa lavorazione della rigidità che ha quindi adatta a tantissimi progetti quali fondi borsa ma anche le pochette per non inserire la rete quindi una pochette semplice possiamo farla con questo punto e non c'è bisogno assolutamente di inserire rete o termo indurente per poterle indurire quindi ci continuiamo questa lavorazione ci rivediamo per vedere l'effetto che abbiamo alla fine ho fatto un pezzetto di lavorazione guardate il punto come si presenta da una parte dall'altra è sempre uguale e soprattutto molto rigido e spesso come lavorazione ora vi volevo far vedere come chiudere il lavoro nell'eventualità volete magari inserire un altro punto un punto fantasia quindi entriamo nel primo punto come abbiamo appunto lavorato finora e facciamo la chiusura maglia bassissima dopodiché entriamo nel secondo e facciamo la stessa cosa e proseguiamo a chiudere a maglia bassissima le due asoline del punto che abbiamo lavorato finora quindi ci ritroveremo con un punto singolo nel giro successivo è arrivati qui all'ultimo punto qua abbiamo le due asoline vicine vicine le prendiamo e chiudiamo catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo questa è la lavorazione e questa la parte di sopra come vedete un bel punto per fare tanti progetti e sicuramente noi ne faremo più in là qualcuno insieme spero che il video vi sia piaciuto se così lasciate un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulle mie pagine facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video